Il nostro è un viaggio che punta verso un orizzonte sostenibile dove la performance non è mai solo potenza ma intelligenza e consapevolezza dove il design è inconfondibile e la tecnologia è in continua evoluzione e in questo cammino la voce che vi accompagna non è solo una voce è un impegno questo è il nostro viaggio verso un futuro che stiamo già costruendo insieme grazie